Il sentiero degli Dei è il percorso più conosciuto della costina norfinale e sicuramente anche più affascinante. Fu scoperto dai Greci e nell'antichità questo sentiero veniva molto utilizzato dalle popolazioni locali per fini commerciali. Era percorso soprattutto da contadini che l'attraversavano con muli carichi di prodotti della terra e attrezzi da lavoro. Oggi questo sentiero è percorso da turisti di tutto il mondo che vogliono vivere un indimenticabile trekking ad alta coda con scenari meravigliosi tra cielo e mare. È un sentiero divino. Se guidati da esperti l'escursione dura circa tre ore ed è adatta per grandi e piccini.